Siete pronti ragazzi? Sì signor capitano! Non ho sentito bene. Sì signor capitano! Chi vive in un cupo in fondo al mare? SpongeBob SquarePants! E giallo una spugna, bianco non ha! SpongeBob SquarePants! Ma che i crambi patti squisiti sa far! SpongeBob SquarePants! E giallo una spugna! SpongeBob SquarePants! Un squid e compadre che sorprenderà! SpongeBob SquarePants! Ragazzi è in arrivo una nuova serie, SpongeBob Peluche! E questo è il nostro trailer! Domani uscirà il primo episodio, ovvero come si risolve un cubo! No? Sì! Ciao!